Siamo orgogliosi di questo restauro, siamo orgogliosi di averlo finito nei tempi previsti e siamo orgogliosi che il Presidente Mattarella, erede di una tradizione cattolica importante del nostro paese, venga a inaugurare questa casa museo restaurata del Presidente Pertini, altro erede di una grande tradizione politica del nostro paese, quella socialista. Restaurare questa casa vuol dire restaurare anche la memoria, restaurare la memoria di un Presidente che è stato un Presidente di svolta, il primo Presidente che potremmo definire populista nel nostro paese, cioè ben radicato, in grado di comprendere le ansie e le esigenze delle persone e di parlare il loro linguaggio. Un Presidente di svolta perché è stato il primo Presidente a nominare un laico a Palazzo Chigi, dopo tanti anni di democrazia cristiana, un Presidente che ha nominato il primo socialista a Palazzo Chigi, quindi un Presidente che durante il suo mandato ha saputo di fatto cambiare, se non la Costituzione materiale, certamente gli equilibri politici del nostro paese. Sono tempi di profondi cambiamenti anche questi e io credo che recuperare parte di quella memoria, parte di quella capacità di dialogo, parte della capacità intellettuale di costruire una grande democrazia come quella in cui viviamo sia un contributo positivo anche al dibattito politico di questi giorni e non solo alla memoria di un grande uomo e di un grande Presidente che deve essere conservata ed è un orgoglio per la città di Stella, per la provincia di Savona, per la nostra Liguria, ma per l'Italia tutta.